Operazione Persephone 2. I carabinieri di Palermo hanno disarticolato un'associazione finalizzata al traffico di droga gestito dalle famiglie mafiose di Bagheria, Palermo, Porto Nuova e Rocella, eseguite a 21 ordinanze di custodia cautelare. Le accuse a vario titolo sono di associazione per delinquere finalizzata al traffico e spaccio di stupefacenti, aggravati dal metodo mafioso. Secondo le indagini, il traffico di droga sarebbe l'opportunità per un adeguato sostentamento delle casse mafiose, con una gestione piramidale della piazza di spaccio bagherese, il cui vertice ricade all'interno del perimetro mafioso. Grazie a tutti!